Io come sempre vi annoierò un po' con delle immagini perché cercherò di ripercorrere velocemente che cosa ci ha confermato questo 2018 dei dubbi che avevamo l'anno scorso in queste stesse date qui in questa sala e poi guardare in modo molto veloce a quali sono, ho scelto delle date, le cinque date da guardare nei prossimi mesi che possono essere dei punti di snodo sui temi che il Presidente Bonomi ci ha anticipato prima. E come Enzo Tortora quando tornò a Portobello dopo un po' di anni d'assenza, dopo un anno da questa sala ricomincerò da dove eravamo rimasti. Cioè da dove eravamo rimasti esattamente un anno fa. Un anno fa in questa sala la mia prima slide era stata questa frase di Martin Wolf che guardando al 2018, quindi guardava l'anno che iniziava, diceva che il mondo all'inizio del 2018 presenta un contrasto fra le sue politiche deprimenti e l'economia in miglioramento. Perché politiche deprimenti guardava alle politiche dentro gli stati, stati in alcuni casi troppo forti, eccessivamente forti, la Turchia tornata molto forte, assertiva e poco democratica, la Polonia, l'Ungheria ed altri, e stati troppo deboli, stati troppo deboli con divisioni, erosioni, paralisi interne, governi e coalizioni. Ma il depressing era anche per Wolf, lo scorso anno quando scriveva, la politica fra gli stati e si riferiva a quelle tensioni crescenti dentro le regioni, fra le regioni. Però, Wolf sottolineava, c'è l'improving economics, i forti segnali che arrivavano dagli Stati Uniti, i timidi segnali ma positivi dall'Europa e le locomotive India, Cina e altri che comunque tenevano. E su questo, lo scorso anno, avevo fatto il bernacca, non il tortora, guardando agli scenari politici con questi simboli del maltempo o del beltempo, dove prevaleva in alcune zone importanti per noi o la nebbia o il temporale o il mare mosso, e avevamo un grosso punto di domanda di temporale in questi giorni, l'anno scorso, sulla Corea. E Wolf si chiedeva, la vera domanda del 2018 è, questa divergenza fra una politica che fa pasticci e un'economia che dà dei segnali buoni, continuerà la divergenza o uno dei due prevarrà sull'altro? Ovvero, scenario negativo, la politica depressiva influenza l'economia e va male anche l'economia, oppure lo scenario un po' più solare da inizio anno, che l'economia che migliora e per esempio fa venire meno le disuguaglianze, fattore dirompente fra Stati e dentro gli Stati, portano a una politica che torna su un sentiero positivo. Ecco, dove siamo andati nel 2018 in questa divergenza depressing politics improving economics? Chi è salito? La depressione o i miglioramenti? Ecco, e qui guardando al 2018, e cerco davvero di essere veloce, la prima risposta non è particolarmente positiva, perché quella economia che era improving è un pochino depressing, perché nonostante i tassi di interesse bassissimi a livello record, e nonostante i dazi, che al di là di tutto il dibattito sulle guerre commerciali, non sono mai stati bassi come in questo momento, nella storia degli ultimi decenni, nonostante questo, i segnali emersi nel 2018, soprattutto negli ultimi due trimestri, sono depressing. Nel senso che guardiamo qua la Cina, guardiamo l'Europa e guardiamo la Germania, e la linea nera della Germania ahimè assomiglia molto, per motivi che sono ovvi, a quella dell'Italia, i segnali dell'economia, quella che doveva portare al miglioramento della politica, essendo lei improving, i segnali dell'economia non sono particolarmente solari. Ma venendo al mio campo, al campo nostro dell'ISPI, cosa ci lascia invece il 2018, per quanto riguarda quella che Wolff definiva la depressing politics? Partiamo con il bicchiere mezzo pieno, ci sono stati segnali positivi e inattesi. Poco fa abbiamo visto quel temporalone sopra la Corea, la Corea non sappiamo come andrà a finire, ieri sera Trump ci ha detto che si incontrerà con Kim, però certamente possiamo dire che un anno fa si discuteva su chi aveva il bottone nucleare più grande, in questo momento il clima è in parte cambiato. Presto per cantare vittorio, ma un segnale positivo. Un secondo segnale positivo, un po' lontano da noi, ma che tocca un paese che è una nuova potenza regionale in Africa, è la pace che c'è stata in attesa fra Eritrea e Etiopia. Il terzo segnale positivo, di una regione che di segnali positivi non ne ha molti, viene dall'Iraq. Un Iraq che abbiamo seguito in questi decenni, prima per le guerre e poi per il terrorismo, con nuove elezioni, un nuovo leader, lo abbiamo avuto a Roma recentemente alla conferenza, MED, un paese che cerca di risollevarsi da decenni di pasticci. E poi un altro segnale positivo, a proposito di venti di guerra che hanno dominato il 2018, oltre a CETA che già citava il Presidente Monomi, c'è stato l'accordo con il Giappone, che è un raro caso di accordo commerciale dove anche dopo l'accordo, prima e dopo l'accordo, festeggiano tutti. Lo scambio cibo-agroindustria per auto e tecnologia sembra in questo caso accontentare un po' tutti. Ma se ci sono stati nel 2018 su questa depressing politics questi segnali positivi, perché la Lagarde, non più tardi, tre settimane fa e altri, parlando del 2019, quindi ci spingiamo verso il 2019, parla di rallentamento della crescita dovuto soprattutto alle incertezze geopolitiche, quindi di nuovo alla depressing politics. Perché sì, a fianco di queste notizie positive, noi abbiamo avuto nel 2018, e vado velocissimo, sono cose che abbiamo visto, sono passate sotto i nostri occhi, una serie di appuntamenti che hanno accresciuto i dubbi sull'eopolitica. Il primo è chi è forte è diventato ancora più forte, in questa contrapposizione fra statualità debole e stati forti, assertivi e centralizzati, la Cina di Xi Jinping è sicuramente diventata un paese più forte, più ingombrante, forse tendenzialmente più aggressivo, c'è ed è lì per stare. Il secondo segnale di politica con qualche dubbio è l'accordo sull'Iran che è saltato. Ci ponevano molte aspettative gli esperti di sicurezza come via per risolvere l'annosa questione, ma non nascondiamolo, le persone in questa sala, il mondo delle imprese, aveva grandi aspettative su questo accordo, di queste speranze abbiamo ormai ben poco. L'Italia ha ancora la possibilità di commerciale su oil per questa grazia concessa da Trump, vedremo per quanto dura. Il terzo segnale che conferma il depressing di Wolf, anziché smentirlo, sono quelli citati dal presidente Bonomi prima, i venti di guerra sono diventati commerciali e qualcosina di più. L'immagine emblematica del rapporto amicale fra amici del G7 è quella che abbiamo visto in scena in Canada, parlando di commercio, guardate il body language degli attori principali e non è sicuramente una chiacchierata al bar fra amici di lunga data. Se questo è il clima fra amici di lunga data, non deve stupirci altro segnale del 2018, il fatto che fra chi qualche sassolino nella scarpa ce l'ha, il dialogo non sia diventato più virtuoso che nell'anno precedente. Le rivalità geopolitiche, a queste si sono aggiunte le accuse di interferenza e il clima non è sicuramente particolarmente buono. Dicevamo, guardando al 2018, un attore forte che diventa più forte, abbiamo un altro attore che nel 2018 vuole tornare ad essere forte, Great America, che con le elezioni di midterm invece si ritrova con un'America divisa. Anche qua le elezioni di midterm hanno sempre visto i presidenti in carica a perdere un ramo del congresso, ma per l'agenda di Trump, l'agenda interna di Trump è un ostacolo e questo influenzerà i prossimi bienni. Anche in Europa, in un quadro di politica debole, di politica di coalizioni, di governi di minoranza, pensiamo alla Spagna, eccetera, avevamo lo scorso anno un'aspettativa su un attore europeo forte, la Merkel in lenta uscita, ma c'erano le speranze su Macron. Le speranze su Macron che sono un po' appannate in questi mesi, perché quanto è successo e può continuare a succedere in Francia con le proteste e la sua risposta prima tentennante, poi molto accondiscendente nei confronti delle proteste dei gilet gialli, hanno sicuramente appannato la figura interna, ma anche la proiezione in Europa, del leader francese. Allora, questo è il passato. Però ne ho ancora una, se mi concedi, sul passato, che è una piccola provocazione, perché l'ho messa sotto il depressing del 2018, e sotto il depressing ho messo questa immagine. Il miracolo, mi sono in imbarazzo a parlare di fronte all'ex ambasciatore di Giappone, ma il miracolo di Abe, perché è depressing, come ha chiuso l'anno Abe in Giappone? Ha chiuso l'anno con un esercizio insolito, anche in Giappone, di veduta lunga. Ha guardato la curva demografica del suo paese, si è accorto, non ci voleva lo sguardo sulla curva, che c'è un problema con l'età dei giapponesi, e c'è già ora nel mercato del lavoro un problema, ogni 100 candidati sul mercato del lavoro ci sono 164 posti, oggi in Giappone, tutti vecchi, pochi giovani. E Abe ha fatto una proposta, che deve diventare legge, ma che ha lanciato nel dibattito, su due temi. Uno, l'allungamento dell'età lavorativa, quindi in pensione più tardi, e la seconda, il piano di importare, scusatemi il termine, 500.000 immigranti nei prossimi anni. Veduta lunga, non è depressing politics. L'aspetto depressing con cui chiudo è che ci sono altri paesi che hanno la stessa curva demografica del Giappone, uno che noi conosciamo anche abbastanza, e c'è una divaricazione di ricette rispetto ai migranti e rispetto al pensionamento, con la politica che Abe sta proponendo ai giapponesi. Questo è il 2018 che ci lasciamo alle spalle, rispetto alla depressing. E che cosa ci dici invece del 2019? Poi l'anno prossimo vedremo su che punti ci hai preso e su che punti no. Cercherò di essere furbo e porre domande anziché dare risposte, come si fa in questi casi, ma già la scelta delle domande è chiaramente una scelta di agenda. Allora, a proposito di depressing, vi anticipo quale sarà il tema del rapporto 2019 dell'ISPI che uscirà fra pochi giorni. E già quello, torno al Presidente Bonomi, a quello che ha detto all'inizio, è già quello, è il buongiorno. Il rapporto 2019 dell'ISPI si intitola La fine di un mondo. La fine di un mondo, dove vogliamo, in un rapporto che ha, non mi faccio il riassunto del rapporto adesso, non spaventatevi, ma prendo il tema, in un mondo dove le dinamiche descritte prima dal Presidente Bonomi, a cui ho fatto cenno, in cui abbiamo le politiche interne nei singoli stati e i rapporti fra stati, tutti in riesame, usiamo questo termine, in questo mondo ci avviamo alla fine di un mondo, il mondo che abbiamo conosciuto per adesso. Può essere una notizia positiva per alcuni, ma sicuramente è un punto di cambiamento. Voi direte che c'è qualcosa di pessimista in questo titolo, forse, ma noi dell'ISPI non eccediamo mai in ottimismo nei titoli dei rapporti. Ho riguardato e ve li cito i titoli dei rapporti degli anni precedenti, degli ultimi anni. Nel 2017 era l'età dell'incertezza, nel 2016 era le crepe della governance mondiale, nel 2015 in mezzo al guado. Quindi, tutto sommato, siamo ancora qui, siamo ancora qui, nonostante questi titoli, il che vuol dire che un po' siamo pessimisti noi, un po' magari non ci azzecchiamo, oppure ci azzecchiamo, ma semplicemente da quattro anni il tema è sempre quello. Come è ovvio che sia, perché in un rapporto noi non guardiamo la contingenza, ma cerchiamo di affrontare quello che è il trend. E quest'anno segnaliamo che siamo alla frutta su questo trend, nel senso che dopo le crepe, dopo il guado e dopo l'incertezza, stiamo arrivando, non voglio usare la resa dei conti perché è un connotato negativo, ma stiamo arrivando a un punto che non sarà il 16 febbraio del 2019, né il 23 settembre, ma un punto importante, ne parlavamo poco fa in sala dei relatori. Quali sono le immagini, le date, le domande di questo 2019 che va verso la fine di un mondo? Le prime, vado velocissimo anche qua, le prime sono in realtà code del 2018, ma punti su cui dobbiamo avere un po' di attenzione. La prima è questa, l'arresto della figlia del fondatore di un'importantissima azienda di telecomunicazioni cinese, che può essere un caso isolato, ma può anche essere un segnale che oltre la guerra dei Dazi, di cui noi continuiamo a parlare, si può arrivare su alcuni settori importanti, a operazioni molto più drastiche, bandire l'azione di aziende straniere, e qui a proposito della ridefinizione del supply chain nel mondo business, arriviamo a un... cioè la Cina può rispondere con la Boeing o con la General Electric, e da qui, bloccando le attività, arriviamo a scenari che non vogliono neanche toccare. La seconda immagine che ereditiamo in realtà da fine anno è quella depressing del meaningful vote. Noi abbiamo definito il meaningful vote il voto di dicembre sulla Brexit, perché dopo due anni di negoziati dovevamo capire cosa succedeva alla Gran Bretagna, quel voto dopo due anni di negoziati è stato perso da Theresa May con 200 voti contrari, ma qualunque fosse il risultato del voto, questi, alla domanda secca, in or out, che quel voto meaningful significativo doveva dare, questi sono i scenari aperti dopo quel voto, cioè ancora tutto. Altro referendum, no Brexit, no deal, non si sa, caduta dal governo, eccetera. E poi abbiamo avuto una serie di cancellazioni repentine che possono anche apparire positive. La cancellazione della presenza ribadita ieri sera da Trump americana in Siria, la cancellazione, qui entriamo a fine anno e i giorni recenti, della presenza in Afghanistan e un'altra cancellazione che passa sopra le nostre teste, comprensibile per gli americani, ma a noi interessa capire le conseguenze per l'Europa, del trattato che Gorbachev e Reagan avevano firmato nell'87. E su questo, che sono code, i contabili direbbero rate i risconti dell'anno precedente, si innestano le cinque date su cui dobbiamo prestare attenzione quest'anno. La prima data tocca all'America, sono due fatti che avvengono lo stesso giorno, il 15 febbraio. Il 15 febbraio sapremo se l'attore rilevante, la superpotenza, continuerà a farsi male da sola riprendendo lo shutdown. Lo shutdown è la più grossa minaccia, se protratto oltre il mese che ci sia stato, della locomotiva americana così importante per noi nella sua crescita nel tempo. E sapremo se attorno a questo il clima con cui ieri Trump ha fatto lo State of the Union non sembrava molto aperturista a un dialogo vero con i democratici, al di là delle parole. E questo è un primo appuntamento. Lo stesso giorno, ci tocca più da vicino, un comitato del congresso stabilirà se le auto europee e asiatici costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale. Qualche anno fa avrebbe fatto ridere questa possibile definizione. È la realtà e questo può voler dire qualcosa di molto pesante per la Germania e, per quanto ci lega, qualcosa di pesante anche per noi. Ma la vera partita, lo sappiamo tutti, è quella del primo marzo. Il primo marzo noi sapremo se, forse, non è detto che sia meaningful come meaningful della Brexit, sapremo se la tregua nel negoziato Cina-America terrà. Trump arriva a questo appuntamento inorgoglito dai successi che ha avuto, anche se parziali, ma su Nafta, dal fatto che l'Europa ha lanciato segnali chiari di aprire su alcuni aspetti del negoziato sulle auto di qui sopra, ma la Cina è innegabilmente un boccone più grosso da gestire che non il Messico e il Canada per gli americani. L'esito di questo negoziato potrebbe mettere qualche nube sull'altra locomotiva della crescita la Cina. C'è una buona notizia, se fosse vero quello che l'ONU ha comunicato ieri, le Nazioni Unite hanno comunicato ieri che se saltasse la tregua il grande beneficiario di questa guerra commerciale sarebbe l'Europa perché molto del commercio si sposterebbe sull'Europa. Speriamo che questo sia un dato positivo che ci dà qualche notizia, un bicchiere mezzo pieno. Il 29 marzo forse, e qui il forse è d'obbligo, avremo la risposta alla domanda degli ultimi due anni, cioè se la famiglia reale inglese diventa extracomunitaria. Lo uso come... Questo, lo sappiamo tutti, ha in primis pesanti conseguenze per la Gran Bretagna se avvenisse con un no deal, ma sappiamo tutti che se ciò avvenisse ci sarebbe disordine e incertezza e sappiamo tutti che quando c'è disordine e incertezza alcuni paesi più periferici e a sud soffrono un pochino di più. E chiudo con l'altro meaningful vote del 2019 e seguo la linea che ha già anticipato il presidente Bonomi prima. Il meaningful vote è quello del 26 maggio sulle elezioni europee che si profila, lo diceva prima Bonomi, come una battaglia sulle idee, apertura, chiusura, sovranisti, europeisti, populisti, elite, tecnocrazie, Bruxelles e quant'altro. Un'analisi a freddo dei dati, dei sondaggi, del numero dei seggi che i singoli paesi hanno pur nell'incertezza di questa fase dove non si è ancora capito dove si mette Macron alcuni personaggi rilevanti non sono ancora ben profilati rispetto a questo ma un'analisi a freddo mostra che molto probabilmente la vittoria netta di una delle due parti non ci sarà. e avremo il new normal in Europa che in realtà abbiamo sempre avuto coalizioni coalizioni ma sempre più allargate quello che sta succedendo in tutti i paesi europei si allarga il tavolo e devi portare dentro qualche partito in più. Quindi tutto sommato non grandi cambiamenti ma la domanda è è questa una buona notizia per un'Europa che si aspetta dall'Europa invece dei grandi cambiamenti e la seconda provocazione con cui chiudo davvero è ovviamente non è certo quello che vi mostro adesso ma voi sapete che a Bruxelles nelle elite tecnocratiche Bruxelles lobbisti eccetera c'è questo bubble di mille mille e cinquecento persone insider di Bruxelles quelli che conoscono gli starnuti dei commissari dei partiti dei gruppi e queste mille e cinquecento persone hanno fatto qualche settimana fa una proiezione una stima una previsione chi saranno i leader dell'Europa dopo le elezioni noi discutiamo di chi vincerà loro hanno già messo quattro facce presidente della commissione europea Barnier Francia presidente del parlamento europeo Weber Germania presidente del council Rutte Olanda presidente della banca centrale il tedesco Weidmann è molto prematuro come ho detto ma comunque vada per l'Italia se questo fosse lo scenario a tendere non è necessariamente una passeggiata rispetto alle posizioni che l'Italia ha preso e che sta prendendo negli ultimi anni e quindi questo è il quinto appuntamento su cui prestare attenzione nel 2019 mi fermerei qui grazie a tutti